Sola suave, terzo classificato, un terzo posto guadagnato a due giri dalla fine, credo tu sia molto contento di questo no? Sì, sono riuscito a recuperare dopo una buona partenza però mi hanno sfilato in due o tre e pian piano dopo durante la gara sono riuscito a recuperare fino a prendere il terzo posto. Complimenti, adesso ti aspettiamo in gara 2. Grazie, ciao.